Buongiorno signor Lorenzo! Sei tu che è di camera? Ma che è messa? Ma chi sei? No dai, Lorenzo! Non puoi rimanere a lungo così, dai, signor Lorenzo! Dai! Ciao Maria, andrei su Youtube! Ecco la bocca di un'altra domanda, non direi il mio nome! Ma direi, non fate cosa!